Questo non è un tutorial su un esercizio in particolare, ma soltanto un consiglio, ovvero quello di procurarsi dei blocchetti di legno come questi, che può farvi qualsiasi falegname. Io vi do le misure dei miei. Praticamente sono 10 cm x 15 cm. L'altezza del blocchetto invece è a seconda di come vi trovate meglio. L'importante è che mettendo la mano in questa posizione, quindi con tre dita avanti, o soltanto due a seconda di come vi trovate meglio, ci sia lo spazio per fare entrare le dita, chiaramente in modo tale che non tocchino il pavimento. Le misure del blocchetto chiaramente possono variare a seconda della grandezza della mano. L'importante è che tutto il palmo sia sul blocchetto, mettendo la mano in questa posizione. Non fate in modo che il blocchetto sia più corto del palmo e quindi che esca fuori. All'inizio saranno normalissime cadute di questo tipo, che avvengono semplicemente perché si percepisce il peso del corpo molto più sulle dita che sul palmo. Quando riusciremo invece a percepirlo sulla parte del palmo, chiaramente a contatto con la parte alta del blocchetto, riusciremo a fare una verticale solida in buona forma. Regole che si riporteranno a terra e si noterà che la verticale già sarà migliorata tecnicamente.